Le mascherine continuano a essere uno strumento chiave contro il Covid e devono essere portate da chiunque al chiuso o nei luoghi affollati. Sono le nuove linee guida emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che trovano però in netto disaccordo i maggiori virologi italiani. Ne abbiamo parlato con il professor Matteo Bassetti. Se noi siamo arrivati dove siamo oggi in Occidente non lo dobbiamo alle mascherine, non lo dobbiamo al telelavoro, non lo dobbiamo al lockdown, non lo dobbiamo alle vaccinazioni. Quindi dire oggi che per affrontare una nuova eventuale fase bisogna rimettere le mascherine secondo me è un clamoroso errore. Dire che negli ambienti chiusi universalmente tutti utilizziamo la mascherina. Questo è sbagliato a mio parere, quindi noi dobbiamo dire una cosa, vogliamo difenderci da nuove varianti, dobbiamo dire alle persone anziane, alle persone fragili di andare a farsi la dose di richiamo. Che è il vero problema oggi perché il 70% delle persone fragili, persone anziane a cui questa vaccinazione sarebbe dedicata non l'hanno fatta. Quindi io più che un richiamo sulla mascherina, credo che sia utile e importante un richiamo sulla vaccinazione, cioè andare a dire alle persone che non l'hanno fatto di andare a vaccinarsi. Intanto in Cina il numero dei decessi ha raggiunto la cifra mostruosa di 36 mila al giorno che in due mesi vuol dire oltre 2 milioni di morti, sotto accusa la campagna di vaccinazione che ha lasciato fuori gli anziani. La verità è che i vaccini in Cina ne hanno fatti moltissimi, il problema vero è che hanno sbagliato completamente il target vaccinale, cioè anziché mettere in sicurezza le persone anziane, le persone più fragili, hanno probabilmente vaccinato i giovani, i giovani che sono la parte produttiva del paese. Oggi sta succedendo esattamente quello che non doveva succedere, tanto è un vaccino che funziona meno del nostro. Ma oggi che il contagio si sta spostando dalle città e le campagne dove loro festeggiano il caponato cinese, vedremo un'ecatombe. Si parla di oltre 35 mila morti al giorno, il che vuol dire che fino al mese di febbraio si potrebbero contare qualche milione di morti. Allora capisci che in tutto il mondo in tre anni il Covid ha fatto 6 milioni di morti, rischia di farne altrettanti in poco meno di tre mesi in un unico paese. Quindi questo preoccupa. Un morto cinese conta come un morto italiano, come un morto francese, tedesco o americano. Non è che siccome il cinese può morire ce ne freghiamo. Un morto italiano, come un morto italiano, come un morto italiano.